Quattro anni fa l'arrivo in Sicilia a Siracusa su uno dei tanti barconi della speranza. Da due anni a Ragusa con tutti i disagi di chi vorrebbe il lavoro vero ma non lo trova pur avendo competenze nel settore informatico. Eppure Peter, nigeriano senza legami con il suo paese dopo la morte dei genitori, pur non avendo un euro in tasca, non ebbe dubbi quando a Ragusa trova una borsa con dentro tante banconote più di un migliaio di euro. Non mi ricordo il giorno, però era mercoledì quando ero venendo da un amico, amica mia, alla fermata dell'autobus ho trovato quella borsa e io ho preso e quando cerco dentro ho visto che c'erano documenti e soldi, e io ho cercato per il suo telefono, il numero di telefono della signora se posso trovarlo per registrare la borsa, ma non trovo, invece ho trovato il suo indirizzo. e io ero andato a casa sua per tre volte, ma non trovo la casa. E dopo alle nove di sera sono tornato a casa sua e finalmente la porta è aperta e io ho portato questa borsa a lei e lei era felice quando l'ha vista. Ho chiesto per solo un euro e cinquantacentesimo per il biglietto per ritornare a casa e lei mi ha dato 20 euro. Non hai mai avuto un minimo dubbio quando hai visto quella somma di tenerla magari per te? No, no, perché quella non cambia nulla nella mia vita. Come sei arrivato in Italia? Con la barca, da Libia a Augusta, da Augusta a Seragusa. Appena sei arrivato in Italia, quali sono state le sensazioni che hai provato? Era meraviglioso, perché in Italia ho imparato tante cose. In Africa hai lasciato familiari? Sì, cugini, ma i miei genitori sono morti. Com'è nata l'idea di affrontare questo viaggio? Avete dovuto fare la traversata del Mar Mediterraneo? Sì, l'esperienza è una brutta. Io non voglio parlare di questo, perché quando parlo di questo io non voglio pensare della cosa che è in passato, abito a casa sua. Daniele era lavorando con lei prima, io ero cercando per lavoro, ero in centro di Sprar, e lui mi ha detto che se io posso lavorare con la signora, perché lei aveva una malattia, a Zaym, dopo ho fatto la prova per un mese con lei, e lei mi trova bene, è lì che abbiamo conosciuto, è da Daniel che ho conosciuto la signora. Ho arrivato qua, ho fatto un corso di italiano, terza media. Io voglio imparare di più, però non riesco a farlo, perché il corso che io voglio farlo è più costo, devo pagare. Hai lo status di rifugiato politico? Sì, sì, però ora non ce lo soggiorno. È da quattro anni che ho stato aspettato a giudice, a chi deve decidere, ancora non ho deciso.